Carissimi amici benvenuti a un nuovo video di Mauro Tornitore. Quest'estate ho trovato sul fondo del mare questo scheletro di riccio e allora per Natale ho pensato di realizzare il classico ornamento che lo utilizza. Però questa volta anziché nella parte dell'appendice utilizzare un solo legno ne voglio utilizzare tre differenti. Vediamo alla fine del video come il risultato. Buon divertimento e a dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.